Bene, allora Massimiliano Schettino, prima partita contro il Borgosesia, quindi subito il derby della cremosina in Coppa e una vittoria 1 a 0 al termine di una partita difficile, sicuramente caldo, preparazione nelle gambe eccetera eccetera, ma che comunque il Gozzano ha avuto la capabilità di portare a casa. Sì, hai detto bene, una partita difficile, giocata bene sia da noi che da nostri avversari, un risultato credo sostanzialmente giusto per quanto prodotto nei 90 minuti, però una buona squadra, loro, che ci hanno messo in difficoltà e ci hanno tenuto sul filo fino agli ultimi minuti. Comincia il campionato già domenica, una partita ancora in casa con l'Imperia, tra l'altro lo stesso Imperia, su cui si festeggiò poi la promozione l'anno scorso col pareggio e quindi insomma un torneo non semplice, ci sono stati inserimenti pesanti, tipo quello del nuovo Novara che è senz'altro da scoprire, ma sicuramente ha alle spalle capitali importanti e quindi sicuramente allistirà una squadra per le posizioni che contano. Come si inquadra il Gozzano in questo torneo quest'anno? Beh, diciamo che hai fotografato alla perfezione quella che è la situazione di questo giro, complicato, affascinante, difficile. Noi, l'ho detto alla vigilia di questa gara, ci faremo trovare pronti e sicuramente discuteremo un campionato di livello, poi ovvio che è un Vara favorita probabilmente, Varese, però se analizziamo e andiamo a parlare delle squadre a livello individuale tutte hanno qualcosa da dire o in termini storici piuttosto di ambizioni, quindi saranno partite vere, saranno partite nelle quali bisognerà vendere cara la pelle. Siamo una squadra in costruzione, giovane, però con delle skills precise, con delle idee, io credo che ce la caveremo alla della. Un'ultima domanda, magari due parole per salutare i ragazzi della curva che quest'oggi hanno incinato una piccola contestazione ma che alla fine sono sempre presenti in qualsiasi situazione. Sono fantastici, io li conosco da tempo perché sono allozzano da tanti anni, quindi quando vengo allo stadio a vedere le partite ho sempre ammirato il loro entusiasmo, anche oggi ci sono stati vicini e noi apprezziamo davvero tanto questa loro vicinanza e speriamo che possano insomma sempre farci sentire il loro sport. Poi parlavi prima di una piccola contestazione con nessuno al corrente, non ci abbiamo fatto caso, non li abbiamo visti, sentiti cantare e comunque alla fine siamo andati a salutarli come sempre e ringraziarli perché è giusto che anche loro meritino il tributo che gli spetta. Grazie. Prego, grazie a voi. Di Gozzano, risultato non positivo, però si è visto un Borgossese che ha tenuto bene il campo contro una squadra molto attrezzata. Sì, risultato non positivo, ma ci portiamo a casa secondo me delle buone indicazioni. Loro da questa partita secondo me si porteranno stretti alcuni errori che hanno fatto e per crescere bisogna passare anche attraverso queste partite. Come hai visto il Borgossese? Un po' contratto, è colpa mia, è colpa mia, bisogna andare più soft, quindi le responsabilità in questo caso sono mie. I ragazzi devono star più sereni, sono ragazzi giovani che devono crescere ma hanno il potenziale per bruciare l'età, questo punto di vista qua. Adesso la tensione viene rivolta subito al campionato con una sfida importante come quella di Chieri. Sì esatto, ci aspetto un altro test complicato perché Chieri è una buona squadra con individualità di spessore ma sono a falsa riga del Gozzano, squadra attrezzata per fare i campionati di vertice e quindi noi dovremmo essere più bravi di oggi ma sono convinto che lo sarebbero. Partita faticosa, d'altronde la stagione, il caldo, la preparazione, si è visto già qualcosa del Borgossese che vorrai più avanti? Sì sì no ma a parte la preparazione e il caldo sono cose che per me non esistono, fai bene fai male, oggi li ho fatto non bene ma per colpa mia attenzione e quindi qualcosa si è visto, devono stare più sereni, io ho detto questo a loro e portarsi a casa questa partita come insegnamento. C'è un obiettivo per la stagione oltre alla salvezza fare bene. L'obiettivo è fare bene, far crescere questi ragazzi, renderli sempre più consapevoli perché hanno potenziale. Va bene, grazie a me.